E' stata una grande serata, una grande gioia, una grande festa e credo anche giusto che ci sia stata una festa così spontanea, così bella, così gioiosa perché per noi vincere a Torino con la Juve è una grande impresa, poi con quel gol di Coulibaly alla fine, avendo dominato la partita, la concentrazione, la voglia di vincere, il non mollare. Adesso però la festa deve finire perché bisogna lavorare, concentrarsi, vincere tutte le partite, giocare domenica sperando che sabato sera arriva una bella notizia da Milano e che l'Inter possa vincere con la Juve o quantomeno fermarla. La squadra vedo che ci crede, ieri è venuta fuori questa immagine molto potente di una squadra che ci crede, che non molla, che è concentrata e che ha talmente un'adrenalina psicologica che ha anche superato le difficoltà fisiche che erano anche evidenti nelle ultime partite. Quindi una grande gioia per la città, però adesso bisogna stare tutti concentrati per la volata finale.